I poliziotti dei commissariati di Canicattì e Licata, nel corso di un'operazione conciunda, hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili dei disordini avvenuti domenica pomeriggio all'esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa, in occasione del derby a Grigendino Canicattì-Licata. I tre avrebbero scagliato sassi all'indirizzo delle forze dell'ordine e auto in sosta. Uno aveva in mano una spranca ed erano travisati in occasione della manifestazione sportiva. Gli arresti sono stati già convalidati dal GIP del Tribunale di Grigendino. Ad uno dei tifosi è stato applicato il divieto di dimora nella città di residenza. Agli altri due l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per la firma giornaliera. A carico dei tre, inoltre, il questore di Grigendino ha firmato il DASPO. Le indagini vanno avanti per identificare laddove possibile altri ultras esagitati che hanno lanciato pietre, bottiglie di vetro e spranghe contro le forze dell'ordine.